E ancora non è caricato qua Dai dai Eh aspetta No ma non dice che c'è ancora fly Ok è partito Ok dai Vai Ma che cazzo è sto colo ragazzi New game no 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 new game vai 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 new game Su su forza New game dai Eccolo Già l'ho vista questa Ci sta un uomo E una ventola E una mazza e devi usarla per spostarti Ma ma che cazzo si fa sto coso Non usa la per spostarti Ma ancora Non si tramaggono Vieni ancora lui Ma non è ancora nelle imbossazioni No no Lo vedi in ritardo io Cazzo però Ma è troppo difficile No Ce l'ho riuscito no Cazzo Se hai fatto la laggia Se hai la best shirt dry clean Before a wedding No La sta facendo La sta facendo Mi ha fatto un video E poi dopo averlo E poi 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 ho scoperto Che hanno avuto Che hanno avuto Ah, perchè non ce ne avevo? Sì, gliel'ho passata No, non ce l'ho riuscito No, non ce l'ho riuscito Ma cosa? Ma che muscoli che c'è però per far così Eh, vedi Oddio, ma che cazzo Ragazzi mi sto odiando Ma che mi avete detto di gioco sto gioco E' bellissimo Vai salvo, ce la puoi fare Ce l'ho riuscito prima a salire Non è giusto Allora poggia il martello nella sporgenza Della roccia di su E cerchi di darti uno slancio verso l'alto Sì, ma io Sì, ma io Ma che cazzo di gioco è Oddio Eh, io ti dico solo che Ci sono dei speed drum in 30 secondi Hanno fatto tipo veramente il mondo Sì, ma Uh No Ce l'ho riuscito Ma è giusto Aspetta aspetta Andiamo capire il meccanismo Ragazzi, questa è ancora la prima volta Allora Tutti a prendere Per il culo salvo Oddio Ma cosa Con calma salvo Con calma Ti sto odiando Damiano Tu che mi porti sto gioco del cavolo Devi riuscire ad agganciare la sotto Niente Il cellulare mandava in ritardo Porca puttana Ce l'ho riuscito però Troppo bello Ma poi mi manda cinque son di ritardo O è proprio in diretta da voi Eh, no, non è in diretta È un po' in ritardo però di meno di prima Quindi ferita Oh State vedendo che sta pronto ancora scalare, no? Sì Sì, sì Ancora su scopo qual è di questo gioco No, riuscite ad andare avanti Scalare No, dai, dai, no Ma tu guarda se mi devo andare a vedere le guide di sto gioco No, non devi vederle, non vale così Appunto Allora, c'è un italiano, un francese, un tedesco, tale e quale C'è un uomo, una pentola e un martello C'è un uomo, una pentola e il suo martello E il suo martello Allora, devi riuscire ad appoggiarti sulla pietra Dai, darti lo slancio per dare un altro grappo sul... No, 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 non lo devi aiutare Non lo devi Vabbè, ha detto Allora Non vale così Ci deve arrivare, no, no, no Ci deve arrivare lui Attenzione Ma fermati Quando arrivi se lo penso andarti lo slancio subito Mi piace che continua a girare Hello, my baby Hello, my baby Hello, my baby Dai Se potessi cadere No I muscoli e noi Mi è caduto No 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 Ma che se che c'è fai Sto ripristinando la base Ce l'ha fatte sopra Mozza attento con quel martello No No C'è homage to a free game that came out in 2002, title Sexy Hiking The author of that game was Jasoe' A mysterious cheque designer who I often times the father of B Games And B Games are rough assemblages of found objects Designers slap them together very quickly and freely And they're often too rough and unfriendly to gain much for form They're built more for the joy of building them than those polished products Daviano ti odio Devi finirlo però sto gioco Tu la live e non la chiudi se non finisce il sto gioco Muore, puoi morire qua praticamente Tu la live e non la chiudi se non la finisce Mi minaccio pure il mio fratello L'ha finito il signor Favi Tu non la finisci No, Favi non l'ha finita È arrivato sopra ed è cascato di nuovo al C L'ha finito il signor Zeb Ah quello non lo so Zeb l'ha finito? Non lo so Però almeno FaviJ lo deve superare Per una questione di principio Ma va, 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 FaviJ Deve dimostrare la sua superiorità proprio Di questo posto non penso Ragazzi, iniziate a capire il meccanismo Datemi un po' di tempo È quando non capisci che cominci a bestemmiare Perché cominci a dire Ma perché non funziona? Però tu lo sai che la vita media dell'uomo È all'incirca sugli 80 anni Non è tutto il tempo No E se mi fratevi per colpa vostra sono caduto Ecco Mica, quel remo è come tiene Ok, ora la cazzo come cazzo si fa Come è fatto anche il remo, no? Ma sta cadendo sempre Ma guarda, guarda, guarda Le views sono salite a 9 Ma è ancora là? Io ve lo rendo giunato Sembra la stessa strada di quando devo andare a casa mia Detti che è preciso E ci vai con una pentola e un martello Tu di solito Cioè che in meno di questo gioco veramente si è fatta di anfetamine Qualcosa al genere Cioè, raga, veramente Non ti preoccupare Il prossimo sarà che tu Mario Oppure Dash Geometry No, no, no Quello non è troll però Quello è solo difficile No, quello no ti fa incazzare come? Ma vaffanculo Sì, però non è un troll Non ti prende per il culo quel gioco Sembra Tugger One Cup Due ragazze e una tazza Invece questo è un uomo Il suo martello e il pentolone magico Sta facendo la dolce Io fino a qua ci arrivo Allora Da qua No, 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 no Aspetta Maledetti Mi sto odiando Cioè non ce la fa superare il tetto Non ce la fa superare il tetto Devi fare la tecnica shinobi Per superare il tetto Cazzo di tecnica shinobi Shinobi ne conoscono l'abbazzo C'è la tecnica shinobi C'è la tecnica shinobi Devi fiondarti oltre il tetto Zitto, zitto Non dirgli come Non dirgli come No, l'ho preso L'ho preso Ecco, a Iena serve molto questo gioco Speriamo gli insegni davvero qualcosa Tecniche della fisica Che pesano nulle questo gioco Il gioco di Maurizio Merluzzo C'era quasi Attenzione Sto pianto ragazzi Sto pianto No Tutta Susto Ma te ti stai più avanti Ma non sono i besti Non vengono Che colpuri fa In una certa forma Sexy hiking Is the perfect embodiment Of a B-game No It's built almost entirely Out of found and recycled parts And it's one of the most unusual And unfriendly games No 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 Ma passate Oh Oh Ora cade Ora cade Ok Ce l'avevo Ce l'avevo Ce l'avevo fatta Ragazzi Però è la mia volta Che gioco Questo gioco Stiamo perdendo Signor Dago Ma vaffanculo Cazzo Ma vaffanculo Ma non è ma così Scappa nella roccia Che c'è Sì Mi stanno prendendo per il culo Ma vorrei vedere poi Con sto gioco Noi non siamo degli streamer Mi dispiace Sì Sì Bella così la vita Tu devi fare come ciccio gamer Lo faccio per voi Sì Sì Però no Il tetto L'ho Ero riuscito a superarlo Porca miseria Ancora non hai visto niente È lo stesso principio Dai 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 La storia di un uomo E della sua pentola La storia di un uomo La sua pentola E la sua mazza Io ti dico solo questo Salvo Questo gioco È riuscito a far spaccare A farci Un microfono Noi ho la tastiera pure Allora aspetta Devi fare Devi fare Devi fare Devi fare Le tecniche Devi fare Le tecniche Samurai Mi dispiace Attenti non sali Guarda come si ca Che sotto Ok Ci siamo Siamo al tronco Vai No Ci fai riuscire Dai No Ci devo riuscire No Sei tutti noi Dai Sono foda Che ti sto tenendo Per l'unghia Del tempo È caduto vero Sì Ok mi sono sincronizzato Finalmente No Porca miseria Vi prego Fammi cambiare gioco No Devi finirlo Sì così facciamo la Super 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 il caro Lorenzo Favigiai almeno Ma lo devi superare No Salve You can hit escape If you need to change the mouse sensitivity Ma Favigiai dove è arrivato Molto più avanti Sì 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 Un rimbombo molto leggero E si crea un look Poi Ma come Cioè Si sente un rimbombo Disattiva l'audio del video Della live Cioè Oh Intanto siamo a quota 11 persone Salvo che ammirano la tua bellissima Vaffanculo Va A me lo stai facendo più Dai Non c'ho più Dai Conta che le Le azioni di fisica in questo gioco non contano più di tanto Dai che fai le 100.000 views Io lo voglio provare questo gioco Non può essere così difficile Oddio Oddio Fa male E adesso Perché fa male Bravo No Vai Ti chiamo Vai Ti chiamo Allora Fino a qua ci sono arrivato Allora Oh Concentrazione No Aspetta Diviniamo la Sensibilità Del mouse Allora Allora Tu E questa pentola Dovevi fare una volta del genere Tipo così E poi No No Di là Cazzofale C'era riuscito C'era riuscito Ragazzi C'era riuscito C'era riuscito La forza di Maurizio Merluzzo Sì No 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 Ma come cazzofale Oh 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 No Non devi retrocedere No Rischio Soltanto una kill Solo una Vi sto odiando Vi sto odiando ragazzi Tornando giù Tornando giù No Mano Mano Connettiti su Twitch Connettiti su Twitch E a vedere salvo Che ci stiamo vincendo Per ridere Io ho fatto scaricare Coso Quello di Fabi J Te l'ho linkato Te l'ho linkato in privato Ma cosa sta morendo Dago Dago Ci spiega a meno tempo Il test dell'uccello Che impara Dei suoi errori O Il fratello che è arrivato È arrivato Fabi J Allora Fabi J Ha tagliato Quindi non sappiamo Per aver distrutto un microfono Secondo me Ci ha messo tanto Ci ha messo Bilibo 1 ora E passa Oddio Salvo non è difficile È un giochino serio Sì ma guarda quant'acqua Sta buttando dalla pentola Che pisce Nel frattempo Quello Quelle sono le lacrime Ma come ha fatto A finire là sotto Di un Non dirlo Non dirlo Ma che gioco di merda è Madonna Ma Lì ti fa stare Non è il gioco in sé È come fallì Come non si riesce Ad arrivare alla fine È come veder fallire gli altri È come veder Di stazione No 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 Mi hagi in mano No No Sì Ma come Ma come Ma come Ma Certo Ma come Ma come Ma 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 Vai vai vai, cadi di nuovo, cadi di nuovo Secondo me cade Ecco No, nooo Ho visto che c'è una... Una scima in questo gioco Vai 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 Non è la scima, non hai neanche idea di cosa ti aspetta, guarda Non hai fatto neanche un quadro Un desimo Guarda, lo guarderei sino a mezzanotte Ma in chat cosa dicono? In questo momento c'è White Moon che ha detto prima o poi ti arrendi, secondo me Questo gioco insegna come andare avanti nella vita Sì, scavando con un martello Come continuare non assenti problemi In sé ti fa diventare perseverante E' stato un bestemmione Di quelli potenti Ti fa diventare perseverante Però in cambio poi apri un posto all'inferno Chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è entrato? Anastasia Anastasia Sì, sì, ora fate venire pure lei a prendermi per il culo Mattia, vi stiamo facendo provare un gioco cancroso Che gioco, che gioco Scusa per questo Nooo, è Tinkover Oh, è Tinkover Oh, è Tinkover Keep on trying, don't let it get to you Come mangiare il suo martello? Oh, io Ma che gioco è, scusate? È Tinkover Non so che gioco sia proprio Tu aprilo e fatti delle risate Nooo Sei una persona salica, no? Io, sì Ok, perfetto Questa live ve la amerai tantissimo Secondo me questa live finirà nel dimenticatoio cancellata Perché mi risulta offline? Mi risulta offline Ricarica la pagina Bala live si vive sul momento, infatti Siamo in undici cristiani che stiamo prendendo per il culo Siamo in undici, scusa Pure il gioco mi prende per il culo Lo faccio per voi Lo faccio per voi Hashtag lo faccio per voi Sì, ora lo condividete pure su Facebook Hashtag lo fa per noi Andate Nooo Ah ecco, chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è entrato? Chi è entrato? Persona nuova che è entrata? Venga su Twitch Nooo Stupido E sta su Twitch Perfetto Sto su Twitch Ma perché non parte il video, raga? Oddio Mamma mia Mamma mia E' te da drossa Forza Che gioco del minuto è? Mamma mia Yuen ha detti una mossa Monza Ma che gioco del minuto è? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? E' il gioco del minuto è il gioco Tu non hai capito quanto bisogna fare le tecniche shinobi che... No, posso scegliere io la musica, ragazzi? No, no, un cazzo di... No Ma questa Mettete Mettete quella lì Baddyspenser Cerenzi In le ole di un buggy Gioco Mi sta prendendo per il culo Ah, a me il gioco mi sta prendendo per il culo Metti trollpiss Ma è il gioco che fa la musica Ragazzi Secondo me Sto sorprendendo Ragazzi Vorrei Vorrei annunciare che siamo diventati 12 persone che prendiamo per il culo Saffo Metti Stiamo facendo fare le news Mattio, fatemi pulire gli occhiali Tu stati fermo lì, non ti muovere Gli occhiali, davvero? Gioca senza occhiali Sì Gioca senza occhiali, seriamente No, no, raga, veramente Dai, trova a giocare senza occhiali, per favore Sì Già è disastrato così Figurati senza occhiali Appunto Batte il vestimione in live Ciò che ha ben dato a sto punto Sì, ti trovi Sì Sì E poi Ragazzi Ma questa musica l'avete messa poi? O il gioco? No, l'ha messa il gioco Ma vaffanculo il gioco Ma che musica? Ti prende per il culo pure il gioco di quanto fai schifo Dicevo vorrei vedere voi a sto gioco, veramente Poi ne riparliamo Io avevo il computer che lo regge volentieri Noi non siamo degli streamer Ma non ha fottutamente senso come gioco, quello è un problema No, no, no Anzori samurai con la marea Non abbiamo scelto noi di farti fare quel gioco, vero Ascolta Damiano Ascolta Damiano No, sono state le circostanze che ti hanno imposto a giocare E' bravo Ma che cazzo? Perché? LOL Facciamo in mare Salvo Dai Salvo crediamo intenso Dai Salvo è arrivato in cima E' cadetino Ma non è riuscito a appazzare questo punto, eh Che poi è bello che a volte sembra tipo un samurai super iper bravo Secondo me sta facendo tutto a casa senza strategia Si, probabile Se la puoi fare Dai crediamo in te Hashtag Fallo per le views Guarda dove gli sei attaccato quel martello Ok Ah, siamo in 9 Questo è ancora il primo livello, vero? Si Ancora l'inizio del primo livello Un po' di silenzio ragazzi Si Mi prego Posso capirle delle risate Ma basta Allora No, non gli arriva Allora se io faccio specialmente così Non dovrei Non dovrei cadere Ok Oh, ok 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 Eeeh Opla no Si è messo male però Troppo male Ma che ce la faccio? Che belli amici che hai Pezzi di merda Io sto salendo Noo Vai salvo, vai salvo Vai ce la puoi fare Io sto salvendo Noo Noo Bastardo Maledette Guarda come si è incastrato lì su Noo E ora cade, guarda Noo Infatti come riescerà a superare quel tetto? Noo Non lo supererà Infatti Cosa L'esserebbe Cosa Poi Cosa Cosa Non è bella che tipo fallisce Miseramente il colpo Si batte le craniate della vita Noo Noo Vabbè Yes Oddio Ok Non ci sono Vabbè negli occhi John Vance Cini citazioni salvo di farlo ma da quella che si trova c'è quello che cambia la musica comunque quasi mezz'ora a buono si è da 30 minuti qui mi si sono riappallati gli occhiali ragazzi scusate gioca senza occhiali no siete dei bastardi sempre meglio questo che cat mario ma che temerlo poi non devo più guarda ti posso dare un consiglio nella live metti anche l'hashtag sclerodime ve l'avete visto è tutto vero l'uomo entra in quella maniera in una pentola che deve essere munco ma tu devi vedere le citazioni dei filosofi per cercare di assecondare la cosa tipo la vita è fatta di felicità e di tristezze tipo mi spiace io devo lasciare mi sto divertendo guarda lascia la live a meno collegata perché perché mi arriva persone a casa ok stacchi l'audio la metti sopra l'icona lasci la live accesa la metto sotto a letto e le coso non ci farei caso sta andando fuori di testa perché non riesce a salire se non potete capire che screenshot ho fatto poi l'audio ma bastardo ma secondo ma secondo voi adesso la frase se sei forte salivale allora io vi lascio buona sclerata ciao e ricade salvo se ne è andato e non ritorna più il treno dello splero c'è già dentro lui ma perché il gioco non mette sottofondo la musica di super quark allora organization la musica tro lo lo so no 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 so no 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 � quello di super quark per analizzare questo semplare L'ho mancato tantissimo Vai Salvo Ce l'ha fatta Ha superato la casa Non ci credo Con quale lentezza Posa il martello Per assicurarsi La presa di Vior Tu stai un po' più avanti di me Smettila di spoilerare Hai bisogno di prendere un break Io ti salverò i progressi Scusate Guarda qua sono un punto molto progressante E ora qua come cazzo si supera Ce lo sto facendo Come cazzo si fa ora qua Incredibile Sono stampato le braccia mi raccomando Mi raccomando No seriamente ora come si fa? Cioè È impossibile No si fa si fa Deve saltare per girare il martello Incastrarlo sulla pietra in cima No Zitto non spiegarglielo A fine se ho e poi ho le arti di viti Se stinco e ti conosce William Shakespeare William Shakespeare E torna giù No quel cazzo di bicchiere Sei andato No No Perché è gesto il bambino? Chi ti ha fatto di male? Ma questo non è vero Sei sicuro di essere felice E conoscendo questo 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 Oddio che culo No è il massimo che pentola Che è davvero Ma È violente Ha troninho Sarà un lingo Chi ci può Non sto Se c'entra se sei inizia chiunque tu sia e' nato se dottore e' nato non si è bestemmiare con il gioco l'impostitivo l'argo l'argo ma come sta? il milagre non ce l'ha fatta ce l'ha fatta si no si dai si ma non lo voglio no 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 per quanto e' morto no non voglio ricadere la sotto no ho paura i 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 l'hanno chiamato al telefono ora arriva il fratello e giocano al posto suo vai fratello dai fratello dai fratello vai fratello di iena vogliamo te ho preso una bandiera la stella figlia hai preso una banana un'altra ma si ve l'immagine che si gioca a cat mario come 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 sclera al capo a il 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 lo cominciò con´ era un russo non era un albanese quello che diceva te spiezo in due infatti tagli va mi scinti off milcio che ho detto capo capito che arriva no allora da tagliarmi ci vuol dire ti squarto la carne aspera scrivono che domani lo dico il mio amico albanese gentilezza ma perché non so scrivere in albanese solo parlarlo perché sono anche metà italiana scusa 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 però è bellissimo come nome ok questa è la seconda volta che fai un insulto da gotellano nasi no 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 io mi frega niente l'albanese al banana è bellissimo non è un'offesa c'è vabbè chi è che mi sembra che è occupato cosa mamma a c c xd studi fa cd la finestra specifica allora io di voi non mi sto affidando ora che sono facciamo la seguente chiudiamo questa diretta qua e ne faccio subito un'altra vediamo lo stagioso va bene va bene va bene si va come vuoi io non so non posso immaginare cosa mi sta aspettando